Giovedì 13 febbraio, le ultime notizie dalla redazione. Nella notte tra lunedì e martedì alcuni malviventi hanno preso di mira i parcometri del centro storico di Senigallia. Cinque macchinette per il pagamento della sosta dislocata in piazza Garibaldi e via Pisacane sono state scardinate per rubarne i soldi, un bottino di circa 2.000 euro secondo le stime ipotizzate che per il comune si aggiunge al più elevato costo per aggiustare i parcometri scardinati. Tornerà a riunirsi venerdì 14 alle 16.30 il Consiglio Comunale di Senigallia tra gli argomenti all'ordine del giorno la variante al PRG vigente, azioni per la riqualificazione dell'offerta turistico alberghiera e per la sostenibilità ambientale attraverso la riduzione e rilassamento dei carichi urbanistici. La proposta di adesione del comune di Senigallia alla campagna Fiocco Bianco, un programma di educazione e di prevenzione contro la violenza sulle donne e di formazione con attività rivolte alla scuola secondaria inferiore e superiore. Ammonta a circa un milione di euro il conto dei danni richiesti dal comune di Senigallia alla regione per la calamità di novembre, la stessa che aveva distrutto anche la costa. Solo per la ricostruzione completa dell'Arenile il comune ha stimato una spesa di circa 450 mila euro. Il resto riguarda invece la segnaletica e le piante distrutte dalle raffiche di vento, le strade e i sottopassi danneggiati oltre ad una quota relativa ai danni riportati dai privati. L'Expo Marche ha presentato i risultati relativi alla collaborazione con l'Istituto Alberghiero Pansini durante la diciottesima edizione di AF L'Artigianato in Fiera, svoltasi nel polo fieristico di Rò lo scorso dicembre. Individuiamo degli alunni tra i nostri migliori nel settore di cucina, sala, bar, accoglienza turistica che sotto la guida del tutore aziendale il professor Santini e in collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Sant'Elpidio partono per gestire lo spazio di quest'anno verdicchio e pesce azzurro del territorio marchigiano e gestire questo spazio ristorante. Quindi per i nostri ragazzi è una grande opportunità di alternanza scuola-lavoro che contribuisce a formarli e ad accrescere le loro competenze imprenditoriali potrei dire, ma soprattutto li metta a contatto con un grande pubblico dando alle nostre scuole una grande visibilità ma apportando quel più, quel quid in più a tutta la manifestazione e a tutto lo spazio Marche. Coinvolgiamo appunto i ragazzi e gli alunni e diamo loro la possibilità di fare un'esperienza diretta nel mondo del lavoro e in particolar modo in fiera, quindi a diretto contatto con le imprese, a diretto contatto con il grande pubblico. L'occasione che si è prestata nel mese di dicembre lo dimostra ampiamente, infatti oggi parliamo proprio dell'artigiano in fiera che si è svolto a Milano e che è una manifestazione internazionale che promuove l'artigianato e il turismo in tutte le sue forme e al quale appunto l'Istituto ha preso parte con il Comune di Senigallia e altre realtà della nostra regione insieme a più di 50 aziende e dove i ragazzi hanno potuto partecipare dando dimostrazione delle proprie abilità e delle loro professionalità. Il Comune di Senigallia in prima fila per la giornata di Millumino di Meno, la più celebre campagna di sensibilizzazione del risparmio energetico e sulla razionalizzazione dei consumi lanciata da Caterpillar, la nota trasmissione di Radio 2. Per la decima edizione, venerdì 14 alle 17.30, appuntamento in Piazza Roma per la partenza della fiaccolata verso il risparmio energetico. Cardiologie aperte 2014, il tema di un incontro promosso dall'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale di Senigallia che si terrà sabato alle 15 all'Auditorium di San Rocco tra gli argomenti dell'incontro la mission della Fondazione per il tuo cuore, la sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari. È tutto, grazie per averci seguito, vi aspetto per l'edizione di domani.